Amici di Catanzaro Sport24.it, appassionati di grande calcio, un saluto da Andrea D'Agiano. Ritorna il campionato di Serie C, ritorna in campo il Catanzaro nella prima giornata di campionato. Oggi andiamo a vedere la Virtus Francavilla, prossima per stadio del Catanzaro. Partita che si discuterà domenica 29 agosto alle ore 18.30 allo stadio di Colla Ceravolo. Arbitra Daniele Virgilio di Intrapani. Catanzaro e Francavilla si sono affrontato dieci volte, tre vittorie per il Catanzaro e quattro vittorie per la Virtus. Ovviamente la classifica tutti a zero, quindi andiamo a vedere la probabile formazione di Roberto Taurino per domenica pomeriggio. Virtus che si schiera con il classico 3-5-2. Nobile in porta, i tre centrali difensivi Idda, Caporale e Miceli, i due esterni Ingrosso e Pierno, i tre in mediana Prezioso Franco e Carella, e le due punte Ecuban e Maiorino.